dopo i cinque dell'apocalisse abbiamo anche la coppia goal raffaella e maria dove mi segui tu su bare su bari e su bari mi devi seguire tu dei addirittura vai vai su youtube scrivi come deve scrivere lei come deve scrivere 1 italia unità quattro rete 1 rai devi scrivere quinto potesse andare su youtube scrivi quinto potere no 5 quinto come la quinto in lettere potere by by dai fammi vedere apposta eccolo qua vai sul canale iscriviamoci hai messo mi piace al video ti devi iscrivere quella rossa si iscrivete iscrivete pura maria mi raccomando raffaele abbiamo un'altra iscrizione in più chiama raffaele tino raffaele non così chiama al telefono perché abbiamo perso il conto dobbiamo arrivare a 200.000 in a 200.000 in ieri ieri mi raccomando seguiteci qui quinto quinto potere presto al cinema ciao ciao ciao